Ciao a tutti, sono Federica Di Nardo, meglio conosciuta come Federica Di N. Ciao, sono Eleonora, in arte Iurico Tiger. Cosa fai nella vita? Studio Scienze Politiche, lavoro da mio padre e studio giapponese autodidatta. A quanti anni hai iniziato a fare cosplay? A 16 anni, a 14. Perché hai iniziato? Perché mi piacevano i fumetti ed ero un po' egocentrica, perché mi piace. Qual è stato il primo e perché l'hai scelto? Kiss Me Lisha, Lisha da Kiss Me Lisha, perché era molto semplice e poi adoravo il personaggio. Aristo Gemiglia perché penso sia la mia copia. Quale cosplay senti più tuo? Silmeria. Mephisto. Qual invece ti ha dato più soddisfazioni? Silmeria. Sonic. Quale vorresti fare ma non ci sei ancora riuscita? Silmeria. No. Samu Saran. KTN di Busta Groove. Quale sarà il tuo prossimo cosplay? San Zang da Warrior Zorochi. Ray Yanami di Evangelion. Hai mai fatto un cosplay? No. Sì, Mephisto. Sei mai stato in Giappone? No. Sì. Cosa pensi dell'altra? E' carino. E' simpatica. Cosa invidi dell'altra? E' carino. Sa cucire benissimo. Cosa ti piace oltre al cosplay? La musica, D&D, videogiochi. La moda giapponese. Qual è il tuo sogno? Andare in Giappone. Diventare un idol. Salutate. Ciao Fede. Ciao. Ciao. Io darò. Ciao. 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 Ciao.